Abbiamo girato questo cortometraggio, questo documentario proprio per rendere i ragazzi i protagonisti delle problematiche che vivono in ambito sociale e verrà proiettato anche in tutte le scuole della regione Abruzzo per dare finalmente parola ai ragazzi e stiamo iniziando un nuovo percorso di colloquio tra le istituzioni, i ragazzi e le problematiche che vivono. Noi dobbiamo intervenire sulla cultura dei ragazzi, ormai gli adulti noi abbiamo una formazione, possiamo incidere soltanto concedendo loro una nuova prospettiva delle problematiche che stanno vivendo e anche delle incapacità di esprimersi.